Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera redato stradale toscana e sulla FIPILI. Sulla statale 1 Aurelia, tratto chiuso per lavori tra i chilometri 274,700 e 277,750 tra Donoratico e Cecina Centro in direzione nord. Per gli stessi lavori chiuso anche lo svincolo di Cecina Sud. Sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero, selso unico alternato per Frana tra Popiglio e La Lima al chilometro 68 e 950. Oggi fino alle 19, tratto chiuso tra i chilometri 76 e 280 e 800 nel comune di Abetone e Cutigliano per l'esecuzione di esami geologici. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!